Lupi scatenati in alto piano dove in pochi giorni sono state predate molte pecore. Il primo attacco è avvenuto a Fozza dove una pecora terrorizzata ha dato alla luce anzitempo l'agnellino che portava in grembo ed è stata poi divorata dai selvatici. Il secondo episodio si è verificato a Enego dove tre pecore sono sparite in pieno giorno. E l'ultimo, il più clamoroso, arriva da Rozzo dove altri ovini sono stati sbranati da un branco di lupi a pochi metri dalla casa del proprietario. I predatori sono entrati nel recinto in pieno giorno facendo razzia delle povere pecore e al padrone che le allevava per il piacere della loro compagnia e per tener puliti i prati dei dintorni non è rimasto che raccogliere i poveri resti. A destare preoccupazione e allarme in tutta la zona sono le modalità e l'orario degli attacchi avvenuti tutti in piena luce e a pochi passi dalle case. Si allora preoccupa, preoccupa la vicinanza alle case, preoccupa anche sotto il profilo del buonsenso perché al di là degli aspetti ecologisti, degli aspetti naturalisti, degli aspetti anche estremisti a volte, se il lupo deve fare il lupo capirete anche che il sindaco deve fare il sindaco. Fare sindaco in questo caso vuol dire garantire una certa sicurezza ai propri cittadini e rispondere a quelle che sono le richieste della popolazione. Ma per fare questo serve che le istituzioni a ogni livello vadano a braccetto nella stessa direzione. Ogni animale ha una sua nicchia ecologica, io non credo che la nicchia ecologica del lupo sia il garage delle case della mia gente e quindi chiedo a chi ha competenza e a chi ha la responsabilità, assieme a me, di trovare soluzioni per questo problema che sia a Rozzo ma anche sull'altero altopiano si pone in maniera sempre più forte e sempre più decisa. A un mese e mezzo dall'avvio della stagione dell'Alpeggio e a pochi giorni dall'arrivo dei turisti l'altopiano si interroga. Ma le risposte potrebbero non piacere a qualcuno, forse agli stessi che non danno risposta alle grida d'aiuto del territorio.